Presentata questa mattina la nuova fase della raccolta differenziata ad eboli che inizierà a partire dal 1 luglio. Tante le novità per migliorare la raccolta e raggiungere almeno il 65% in tempi rapidi. Le novità più importanti sono quelle della raccolta del vetro che passerà dalla raccolta campana alla raccolta stradale, quindi raccolta porta a porta e quindi eviteremo di avere questi accumuli di rifiuti che possono scaturire dalle campane. Un'altra cosa molto importante è che serviremo il centro antico con delle isole ecologiche semi-interrate con un controllo degli accessi. Avremo una nuova app a servizio dei commercianti che potranno avere una minore esposizione dei rifiuti per strada, quindi un minore impatto ambientale e questo è un nostro brevetto sviluppato insieme a dei professori universitari della Facoltà di Informatica dell'Università di Cosenza. Un'altra novità riguarderà il conferimento dei pannolini e dei pannoloni che potrà essere, anziché settimanale, potrà essere tutti i giorni con dei cassonetti con un QR code in cui tutti potranno conferire, cioè tutti coloro che appartengono ad una lista, potranno conferire i rifiuti che sono dei pannolini e dei pannolini in tutti i giorni e tutte le ore del giorno. Eboli cambia, si migliora, cerca di puntare molto sulla qualità della vita e quindi partirà un nuovo percorso di raccolta differenziata, il cui obiettivo è quello di raggiungere entro un anno il 65% di raccolta differenziata. Le novità sono in modo particolare che non ci saranno più le campane di veto, quindi il veto sarà raccolto davanti alle proprie abitazioni, ci saranno dei progetti sperimentali, l'estensione della raccolta ma anche della pulizia delle strade su tutte le periferie, un potenziamento in aree significative, ci sarà anche un macchinario specifico per la raccolta delle eiezioni canine, il cui obiettivo appunto è quello di riuscire a dare ai cittadini un senso di appartenenza e questo lo si ottiene attraverso anche il vivere in ambienti salubri e quindi abbiamo bisogno della collaborazione di tutta la comunità. I controlli aumenteranno e saranno ancora più rigidi proprio perché l'obiettivo da raggiungere del 65% deve essere un obiettivo non solo dell'amministrazione comunale ma dell'intera città di Eboli perché questo ne va a beneficio l'intera comunità.